Assessore, i primi numeri riguardo al turismo nella nostra regione sono numeri positivi, parliamo della Pasqua, ora ci sono i ponti, ci si avvicina la stagione estiva, la partenza è stata più che positiva? Sicuramente sì, abbiamo dei numeri decisamente confortanti, tutto ci fa pensare che sarà un'estate positiva per tutto il comparto turistico abruzzese, quindi oltre alla costa che rappresenta ancora il core business del nostro turismo regionale, ma sicuramente parliamo anche delle aree interne, parliamo dei parchi, parliamo di tutto un sistema legato anche al turismo che oggi va di gran moda, esperienziale, legato ai turisti che oramai quando vanno in vacanza non vogliono solo vedere ma vogliono anche fare, quindi abbiamo sicuramente dei dati molto positivi riscontrati del Pasqua, abbiamo sicuramente dati positivi per i prossimi ponti, abbiamo degli indicatori che ci fanno pensare che sarà una bella estate. Voi siete reduci dalla BIT, della Borsa Italiana del Turismo di Milano, dove avete rilanciato il marchio della regione Abruzzo? Ma diciamo che dopo due anni di sosta, insomma in qualche anno in cui la nostra presenza non è stata una presenza importante, ci siamo ripresentati con una presenza importante, devo dire che i risultati anche lì sono molto positivi, gli operatori che hanno partecipato sono tutti soddisfatti, hanno avuto riscontri oggettivi della nostra presenza, è il primo passo per riportare l'Abruzzo al posto che merita per quanto riguarda il turismo italiano.